Detersivi fai da te. Ebbene sì, per le nostre pulizie di cav possiamo prepararli noi. Ma chi ci insegna, se non Lucia Cuffaro, docente presso l'Università del Saper Fare, progetto del Movimento per la Decrescita Felice? Buongiorno! Lucia, la nostra rubrica, di cui tu ormai sei regina, si intitola Chi fa da sé fa per tre. E allora quali sarebbero i tre vantaggi per fare a casa i detersivi? Sarebbe molto più comodo andare al supermercato? Il primo, il fondamentale, la salute, perché facciamo prodotti analergici che non creano derbatiti da contatto per i detersivi, sono adatti anche ai bambini, quindi il più importante. Il secondo, il risparmio economico, anche questo ci piace molto. Il terzo, il risparmio di spazio in casa, perché invece di avere i classici 25 prodotti, ne avremo solo pochi. Beh, cominciamo subito, dai. Meno imballaggi. Facciamo le nostre ricettine, cominciamo con i tipi di pavimento più comuni, in genere la ceramica, il grass, anche il cotto magari. Allora, il classico lavaggio che possiamo fare su questo genere di pavimenti è quello di utilizzare il potere sgrassante e lucidante dell'aceto. Semplicemente in tre litri d'acqua mettiamo un bicchiere di aceto, va bene, quello bianco di aceto di mele che ha un'aromatizzazione più buona. Davvero? Sì. Solo per l'aroma o c'è anche un'efficacia diversa? No, 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 è profumo di più, è più dolce. Sì. Lo possiamo utilizzare anche per i terrazzi in cotto, dato che ha anche il potere di essere un repellente naturale per le forniche. Ma dai, la mela. L'aceto alle mele. Se invece vogliamo aumentare il potere antimicotico contro i germi, eccetera, aggiungiamo anche dieci coccine di olio essenziale tea tree oil, sempre con il contagocce, in modo tale che se abbiamo i bambini in casa che gattonano, oppure gli animali non messi, ci aumentiamo il potere igienizzante. Comincio a capire che questo tea tree oil è davvero utile, torna spessissimo nelle ricette di Lucia. Utilizziamo più o meno sempre gli stessi prodotti così non vogliamo. Non è facoltativo. Allora, se invece dobbiamo spolverare casa, un trucchetto ricicloso, ma che ci permette anche di impattare meno sull'ambiente, è quello di riutilizzare una calza di nylon bucata, metterla sopra uno spazzolone e eliminare tutti quei panni elettrostatici intresi di prodotti chimici che costano anche un anno. Tanti soldi. E invece utilizziamo questo, poi semplicemente passiamo solo. Quindi, noi passiamo prima questa soluzione sui nostri pavimenti. No, in realtà prima spolveriamo. Ok, con la calza. E poi laviamo con la mistura di aceto e acqua. Ecco, e invece per dare la cera, di solito si lucidano i pavimenti? Si lucidano, sì. Allora, nel caso di questo genere di pavimenti, possiamo lucidare con il metodo del maglione. Adesso li vedremo pian piano. Va bene, allora torniamo al pavimento per prima, lo puliamo bene, il parquet. Allora, il parquet in questo caso dobbiamo assolutamente distinguere, fa parquet di tipo naturale, che è quello classico, un po' più grezzo, e parquet invece di tipo verniciato oppure con finitura d'olio in cera. Il parquet naturale non deve essere assolutamente lavato con l'aceto, che è troppo aggressivo, ma dobbiamo sciogliere all'interno di due litri di acqua calda. L'acqua calda è sempre preferibile perché aumentiamo il potere di deterzione. Inseriamo circa 4 cucchiai all'interno di bicarbonato di sodio. Poi, il panno in microfibra, in questo caso, lo intingiamo, lo strizziamo bene perché il parquet non ama l'acqua, altrimenti si gonfia, e puliamo in modo energico. Raddoppiamo la dose, 8 bicchieri di bicarbonato, se invece vogliamo pulire un po' più a fondo, e in questo caso lo possiamo fare una volta al mese per schiarire leggermente. Nel caso invece di parquet, che non sia di tipo naturale, quindi verniciato più artificiale, possiamo utilizzare l'acqua aceto, perché comunque c'è un prodotto chimico sopra. Ed è più resistente. Ed è più resistente. Ho capito. Bene, possiamo lucidarli allora, questi pavimenti? Allora, sì, in questo caso, per lucidare possiamo utilizzare, per quanto riguarda il parquet, il metodo dell'olio di lino. Se ti posso aiutare, dimmelo. Assolutamente sì. Prendiamo un panno di lana vecchio, in qualche modo. Io ho questo cappellino, vedi, un po' rovinato. Versalo tu, circa un cucchiaio o due cucchiai sopra questo panno. Vado, sei sicura? Sì, sì. Roviniamo definitivamente. Questo per il parquet di tipo naturale, perfetto. Dobbiamo stenderlo molto bene, in modo tale che non si creino delle macchie, e passarlo molto energicamente sul nostro parquet, che comunque rimarrà così brillante. Facciamo asciugare per rimuovere l'eccesso di olio di lino che non si aggrappa, diciamo, al parquet. Prendiamo un altro panno pulito e eliminiamo il prodotto in eccesso. Tipo questo. Tipo questo. Oppure questo lo usiamo per fare cosa? Questo lo utilizziamo invece per il marmo, però qui ti devo spiegare qualcosa, perché esiste... E' una grandissima differenza. Il marmo è di tre tipi, naturale o artificiale, finto, quello finto. Sì, quello che usiamo per far tinta di essere figli anche noi. Dobbiamo stare attentissimi che non sia di tipo naturale. Il tipo naturale non dobbiamo mai utilizzare l'aceto, perché questo è anche un trucco per capire se è naturale o artificiale. Perché? Mettiamo una goccina d'aceto sopra il marmo. Se frizza e crea delle bolle, potrebbe rovinarlo. Quindi se frizza e crea bolle, vuol dire che è naturale. Se non crea nulla, è finito. Ecco, se volete andare a casa dei vostri amici e metterle in imbarazzo, tirate fuori un panno, un po' d'aceto e vediamo un po' di metterle in difficoltà. Allora, per pulirlo invece, quindi eliminiamo le sostanze acide come acido citrico, aceto, limone, eccetera. Ma facciamo una mistura con tre litri di acqua calda, un bicchiere di alcol denaturato, ce l'abbiamo tutti, quindi facile. Mezza tazzina di scaglie di marsiglia, quello vero, quello d'oliva, non quello all'odore di sapore di marsiglia. Ovviamente con l'acqua calda poi giriamo e si scioglie. E una tazzina di bicarbonato di sodio, anche qui, soliti prodotti. Io vado, eh? Sì, sì, giro pure. Perfetto. E utilizziamo questa sul marmo, dopo che magari l'abbiamo lucidato bene utilizzando il nostro panno di lana, anche in questo caso. Fantástico. Il sapore di marsiglia in genere ha questa simpatica imballaggio, no? Che noi dobbiamo in qualche modo rimuovere. Perché a te non piacciono questi imballaggi, no? Perché assolutamente no, però ce l'abbiamo. Come rimuovere l'etichetta? O la teniamo tanto tempo in acqua calda, oppure ci sono due metodi. Il primo con il burro. Il burro tende ad ammorbidire e stacchiamo l'etichetta, perché l'etichetta ha delle sostanze appiccicose che non si differenziano. Oppure, questo metodo di... Il magico phon! Dobbiamo! Per staccare le etichette, fantastica Lucia Cupparo. Allora, ricapitoliamo l'occorrente per i detersivi naturali da usare sui nostri pavimenti. Con l'aiuto della grafica vediamo subito che cosa ci serve. Per il detersivo, relativo ai pavimenti in ceramica, gress e cotto, serve un bicchiere di aceto bianco o aceto di mele, che sconfigge anche le formiche. 3 litri di acqua calda, 10 gocce di tea tree oil, che non è facoltativo, perché alla fine abbiamo visto che è molto utile anche per tante altre cose. Per i detersivi invece in marbo o granito, che cosa serve? 3 litri di acqua, un bicchiere di alcol denaturato, una tazzina di bicarbonato di sodio, mezza tazzina di scaglie di sapone di marsiglia. E infine, per lucidare pavimenti, ricordatevi sempre di utilizzare dei panni, magari che non utilizzate più in lana e che non siano troppo aggressivi. E infine, per il parquet, 2 litri di acqua calda, un bicchiere di aceto, 4 cucchiai di bicarbonato, panno e microfibra. Grazie a Lucia Cofaro, noi ci ritroveremo e continueremo a scoprire altri segreti con te. Grazie Lucia. A presto.